Quindi sei un produttore? Lei è Tara? Sì. È sexy, vero? Mi piacciono le cose complicate. Ma non sei geloso? No, non sono mai stato geloso. Dove sei andata? Mi fido di lei. E lei si fida di me. Chi è Cynthia? Sono finita il pronto soccorso. Tu mi hai mentito. È stato inviato al telefono di Ryan. Sta venendo a ucciderti. Per chi mi ha preso? So tutto di che è di Ryan! Mi fa pedinare. Quello è un pazzo. E ha scoperto tutto di noi due. Adesso mi hai rotto! Dio quel bastardo che so tutto! Se lo rivedi ancora una volta, io lo ammazzo. Hai capito? Grazie, amore. The Ganyons. Dal 14 novembre al cinema. Grazie. Grazie.